Immaginiamo di essere dei funzionari, degli ambasciatori oppure anche un capo di stato in visita presso l'imperatore di Costantinopoli in un dato periodo. Cosa avremmo visto? Cosa avremmo potuto ammirare? Del palazzo imperiale di Costantinopoli non abbiamo praticamente nulla, non è rimasto praticamente nulla, a parte pochissimi resti che gli archeologi cercano di strappare alla città viva e prospera di Istanbul. Ma cosa avrebbe visto un visitatore entrando nel palazzo imperiale? Non un palazzo come noi siamo abituati a considerare, cioè un edificio più o meno grande, circoscritto, ma una sorta di città nella città costituita di palazzi, triclini, padiglioni, terrazzamenti e via dicendo, portici, chiese, un po' sul modello, diciamo, della città proibita di Pechino. Quello che purtroppo le evidenze archeologiche non possono lasciarci per la devastante scarsità di reperti rimastici può essere compensato però da una colossale opera scritta su iniziativa dell'imperatore Costantino VII Porfiro Genito che descrive minuziosamente il cerimoniale bizantino all'epoca in cui questo sovrano scriveva in una compilazione che mette insieme non soltanto le procedure del suo tempo ma anche le procedure antiche. E quindi è un documento di straordinaria, straordinaria valenza storica per la storia del costume e della ritualità che sarà nell'impero romano d'oriente in un'età che va grossomodo da quella del tardo antico fino al X secolo. E allora torniamo a noi, siamo degli ambasciatori che devono avere un abboccamento con il sovrano, come saremo accolti? La descrizione del ricevimento degli ospiti stranieri nel palazzo imperiale è descritta appunto nel libro delle cerimonie di Costantino Porfiro Genito ed è sicuramente una delle narrazioni più interessanti e più esotiche che rendono il mondo romano all'oriente così diverso e così lontano dal medioevo occidentale. E allora vediamola, leggiamo la descrizione dal punto di vista bizantino, quella di Costantino Porfiro Genito di come funzionasse la cerimonia del ricevimento di ambasciatori stranieri nella grande sala absidata del palazzo della Magnaura. Entrano il catepano della guardia di palazzo con il domestico e il riso trichiniti e si dispongono ai due lati delle cortine rivolte a occidente. Allora il preposito fa un cenno allo stiario munito della verga d'oro e quello fa entrare l'ambasciatore straniero guidato dal catepano della guardia di palazzo o dal comestabuli o dal protostrator e sono accompagnati dall'interprete e preceduti dal logotetes tudromu. Una volta superata la soglia l'ambasciatore si prosterna facendo atto di venerazione nel confronti del sovrano e in quel istante gli organi incominciano a suonare. Poi avanza di qualche altro passo e si ferma a una certa distanza dal trono imperiale e allora incominciano a suonare gli strumenti a percussione. Mentre l'ambasciatore si avvicina all'imperatore vengono fatte entrare anche le persone più importanti del suo seguito che dopo essersi prosternate si dispongono all'interno delle cortine. Mentre il logoteta gli rivolge le domande di rito i leoni cominciano a fuggire e gli uccelli collocati sul trono e sull'albero cantano armoniosamente. Gli animali sul trono si sollevano dalle loro basi nel frattempo il protonotario del romo introduce i doni offerti ai sovrani dell'ambasciatore e dopo un po' ricomincia il suono degli strumenti a percussione i loro si fermano, gli uccelli smettono di cantare e tutte le belve tornano al loro posto. Dopo l'offerta del dono l'ambasciatore viene esortato dal logoteta a prosternarsi e subito dopo esce accompagnato al suono degli organi, dal ruggito dei leoni dal canto degli uccelli e tutte le bestie si sollevano ai loro basi. Non appena oltrepassa la cortina cominciano a suonare gli strumenti a percussione e tutti gli animali si fermano e tornano al loro posto. Una cerimonia impressionante in cui, oltre allo splendore di una salsidata e alla bellezza delle bestie imperiali intervengono anche gli effetti speciali dell'epoca cioè degli automi meccanici dei leoni, degli uccelli degli uccelli sul trono degli uccelli su un albero dice Costantino Porfiro Genito che si muovono, ruggiscono e cantano armoniosamente secondo la loro specie. Come facciamo a sapere che tutto questo sia vero e non sia soltanto un'opera di mera propaganda imperiale? Perché abbiamo la testimonianza di qualcuno che questi oggetti proprio nell'epoca in cui scriva Costantino Porfiro Genito li vide il vescovo Liutprando da Cremona che nella sua antapodosis visita Costantinopoli proprio all'epoca di Costantino VII Porfiro Genito e viene ricevuto da questo imperatore. E allora leggiamo la testimonianza di Liutprando, vescovo di Cremona e vediamo se questa collimi oppure no con quella di Costantino VII Porfiro Genito. Davanti al trono dell'imperatore vi era un albero di bronzo ma laminato d'oro. I rami erano pieni di uccelli di diverso genere anch'essi di bronzo laminato d'oro ognuno dei quali riproduceva il verso proprio della sua specie. Il trono dell'imperatore era dotato di un qualche marchigegno che lo faceva apparire all'abbasso. Dopo un attimo più alto e poi subito altissimo. Come di guardia avvierano due leoni enormi non saprei dire se di bronzo o di legno ma comunque ricoperti d'oro che battevano la coda per terra e ruggivano aprendo la bocca e muovendo la lingua. In questo palazzo fu introdotto dunque alla presenza dell'imperatore trasportato a spalle da due onuchi. Al mio arrivo i leoni si misero a ruggire e gli uccelli a cantare ognuno col verso proprio della sua specie. Ma io non mi spaventai né mi meravigliai perché di tutti questi artifici erano stato informato da chi li conosceva bene. Mi chinai tre volte a terra in adorazione dell'imperatore quando mi rialzai lui che prima avevo visto seduto poco più in alto del suolo di colpo lo vedi adesso seduto vicino al soffitto con indosso vesti diverse. Quindi gli usparando da Cremona conferma quello che dice Costantino Porfiro Genito raggiunge un altro dettaglio che non viene nel libro di cerimonie. Il trono imperiale si alzava e si abbassava probabilmente con una sorta di meccanismo simile a quello di un torchio diventando come al vertice di una colonna. L'imperatore appariva come i sovrani delle colonne onorarie romane. Ma cos'erano questi automi o potremmo dire attualmente robot che affollavano la sala del trono del palazzo della Magnaura? Non lo sapremo mai perché non ce ne resta nulla. Di questi automi in realtà conosciamo una tradizione che risale addirittura all'epoca ellenistica soprattutto a un noto matematico del primo secolo dopo Cristo Erone di Alessandria che è noto per i suoi studi sull'idraulica e sugli automata cioè gli automi che è un autore particolarmente letto e che destò interesse letto e commentato sia nel mondo bizantino ma anche poi nel mondo del califato arabo ed è molto probabile che a questa tradizione degli automi idraulici di Erone facessero capo gli automi contenuti nella sala della Magnaura di questi automi in realtà abbiamo già altre testimonianze qualche tempo prima al regno dell'imperatore Teofilo dove si parla appunto di un albero un platano dorato con uccelli che cantano di leoni e di grifoni automatici qualcosa di leggermente diverso da quello che avviene successivamente nella testimonianza di Costantino VII porfiro genito e di Ultiparando da Cremona come potessero funzionare esattamente questi automi noi non lo sappiamo viechi suggerisce appunto che vi fossero meccanismi idraulici come quelli collaudati da Erone e da Alessandria che facessero muovere e suonare risuonare attraverso dei soffietti i vari meccanismi certo bisognerebbe chiarire come mai fosse in che modo si riuscisse a ottenere la simultaneità degli strumenti musicali e degli automi e soprattutto come facessero una volta terminato di parlare il logoteta gli automi di nuovo a muoversi e risuonare così velocemente purtroppo non lo sappiamo mai perché di questi straordinari oggetti che restavano la meraviglia dei visitatori incluso lo stesso di Utprando che però faceva finta di non essere rimasto colpito come al solito purtroppo non ce ne resta niente ci fanno però capire il senso straordinario e la ricchezza di tradizioni che veniva interpretata dall'elenismo in avanti e dall'impero romano d'oriente e perché per secoli l'impero romano e costantinopoli rimasero come un qualche cosa di fatato per tutti i personaggi delle diverse civiltà che per un motivo o per un altro venivano a visitare la capitale imperiale